C'è profumo di pulito, il pulito vero che puoi ottenere con prodotti di qualità al miglior prezzo possibile. Dove? Da Bolle Blu, il negozio dove trovi detersivi, prodotti per l'igiene della casa e della persona e per il make-up. Anche biologici che rispettano l'ambiente e il tuo corpo, con la certezza della convenienza. Bolle Blu, affiliato Pro Shop di Maria Cristina Larizza, Via Trento, Boba Marina. Info 340 2801 327. Bolle Blu, tanti prodotti di qualità al miglior prezzo. Prova e vedrai!